La coppia più bella del mondo sta per convolare a giuste nozze. Dopo sei anni di prolifica convivenza, Angelina Jolie e Brad Pitt si sposeranno presto. Lo riferisce il settimanale US Weekly specializzato in gossip, secondo il quale i due potrebbero celebrare le nozze nel loro castello Chateau Mirabel nella Francia meridionale entro pochi mesi. Il settimanale cita tre fonti diverse vicine alla coppia d'oro di Hollywood. La cerimonia sarà molto intima e molto diversa dalle nozze d'oro che videro Pitt impalmare l'ex fiamma Jennifer Aniston nel 2000. Per Angelina si tratterà del terzo matrimonio dopo il primo con Johnny Lee Miller, 96-99, e il successivo con Billy Bob Thornton dal 2000 al 2003. Sarà invece il secondo per Brad Pitt. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.